E' bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video E siamo tornati insieme a voi perchè oggi abbiamo Due pacchi da spacchettare Con all'interno in questo Un aereo e in questo due aerei Tutte e due Dell'Airpad a parte un aereo Che è di un'altra marca ma io direi subito Di partire con lo spacchettamento Ok Qui ci dovrebbe essere Sì Qui c'è il VovAir VovAir Erpa Airbus A330 E poi Andiamo subito con l'altro Allora E qua dovremmo avere L'altro due Che sono L'Eurowings Airbus A330 Scala 1-200 E l'Erpa Snapfit Come l'altro Icelandair Airbus Boeing 757 Direi di iniziare Da questo Eccolo qua Molto 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 bello Allora Ci sono sempre scritte le solite cose Quindi direi fare Molto velocemente Allora Icelandair Boeing 757 200 Scala 1-200 Item No Che è Un numero Dell'oggetto Che è 6-1 Se riesce a mettere fuoco 6-1-0 7-3-5 Erpa Snapfit E io direi Subito Di aprirlo Allora Mettiamo La scatola Qua Eccolo qua Allora Abbiamo La fusoliera Davvero Dettagliatissima Ma Le andiamo a vedere in seguito Dettagli Un'ala Un'altra ala Come per l'appunto Poi abbiamo Il piedistallo Poi abbiamo La coda Con il logo Icelandair E poi Le due Code Finali Io direi Subito Di montarlo Ecco il primo Aereo Allora Icelandair Davvero Molto Dettagliato Mi piace Molto Questo Modello Perché Che è una Livrea Speciale Che ha Adottato L'Islandair Ovvero L'Aurora Boreale Oggi faremo Tutte compagnie Degli Island Perché anche La vovair Degli Island Comunque Adesso Andiamo a Analizzare Un po' Di dettagli Allora Faccio vedere Subito Il piedistallo Dove C'è scritto C'è scritto Che c'è Che è Icelandair Boeing 757 200 E invece Allora Abbiamo L'Aurora Boreale Per tutto Anche sotto Con le montagne Vedete Poi vabbè La coda Il logo E poi La bandiera Che ovviamente È La bandiera Islandese Andiamo a vedere Il muso L'ho pagato 19 euro Il muso Potrebbe essere Anche un pochino Di più Dettagliato Però comunque Va bene Ok Ma passiamo subito Al prossimo Aereo Che è Vovair A330 Eccolo qua Vovair Sempre Dell'Islan Allora Il di dietro Sempre Uguale Poi abbiamo Scritto Vovair Airbus A330 300 Scala 1 200 Poi Item No 1 6 6 1 1 2 8 2 Ok Ma direi subito Anche questo Di aprirlo Eccolo Eccolo Abbiamo La fusoliera Un'ala Un'altra ala Un'altra ala Eccola Le due alette Che si andranno a collocare In fondo Il piedistallo Il piedistallo E poi Eccolo E poi Eccolo Abbiamo Il logo Che secondo me E' fantastico Poi Sulla Sulla Turbina Tutte le due C'è scritto Going to Iceland Andiamo in Islanda E poi Abbiamo Abbiamo Ovviamente La bandiera Dell'Islanda Solita questione Il muso Potrebbe Essere un po' Più dettagliato Anche se Già Va bene Perché è Abbastanza buona Però potrebbe Essere Un pochino Più dettagliato Però Comunque E' molto Molto Bello Questo modello Perché Anche Grandezza E' proprio Cioè Poi a me Il mio aereo preferito Secondo me E' la 330 Però Comunque Passiamo Ah no Scusate ragazzi Questo veivolo L'ho pagato 22 euro Comunque Passiamo subito Al prossimo Pezzo Prossimo E ultimo Eccolo qua L'ultimo Pezzo L'ultimo Modellino Eurowings Airbus A330 200 Scala 1 200 Questa è la Particalità Ecco perché L'ho messo in fondo Che ha le ruote Ed è molto Più dettagliato Allora Ecco Quest'altra marca Nuova Limox Wings Che fa Aeri Come la Erpa Però Questa In particolare Fa soltanto Modellini Di aeri L'ho pagato 19 95 Ma Io direi Di andare Ad aprirlo Che è Davvero Bello Questo Da quello Che ho visto Nelle foto Allora Abbiamo subito Pezzi Allora Ruote L'aereo La fusoliera Il Piedistallo Con La Coda Vedete Come Sono Inboxettati Con cura Perché Tutti Hanno La bustina Protettiva Le ali E direi Basta Si Direi Basta Ok Ora Ve lo monto Ragazzi Dimenticavo C'era anche un foglietto Per come montarlo Eccolo qua Il nostro Ultimo Aereo Molto Molto Bello Però Mentre lo montavo Mi si è rotto Il carrello Qua sotto Adesso lo faccio vedere Eccolo lì Vedete Vedete lì Che ci ho dovuto Mettere del Pathfix Perché si è rotto Era durissimo Da incastrare Ma Dopo si è rotto Cioè è una roba assunta Vabbè Comunque Allora Eurowings Airbus A330 A3200 Poi abbiamo Il logo Dell'Eurowings I carrelli Sono molto dettagliati Però Cioè Questo è il problema Poi abbiamo La bandiera Germania Ed Europa Euro Eurowings E il logo Dell'Eurowings In fondo Come vi dicevo Il museo è molto più dettagliato Perché Si vede che è molto più dettagliato Si vede proprio Ad occhio nudo Senza che uno stia A fare molti controlli E Questo l'ho pagato appunto 19,95 I motori Vediamo un po' i motori Si sono belli Si 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 No comunque anche questo ho provato A parte Per quel piccolo incidente Che ho fatto prima io E che Proprio l'ala Non si riusciva a infilare Avevo già infilato I carrelli E si sono rotti Ma comunque Sono riuscito a ripararlo E sono felice di ciò Niente Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate tanti like Iscrivetevi Attivando la campanella Dell'iscrizione Ci vediamo In un prossimo video Di spacchettamenti aerei Oppure qualcos'altro Che adesso dovrò vedere Se volete Potete anche seguirmi Sulla mia pagina instagram Che è Trattino basso Giolego Trattino basso Iscrivetevi anche Ai Canali Di miei amici Se volete Mettete like A loro video PM96 E frax 0 6 Grazie E alla prossima Ciao ragazzi